Ciao a tutti, oggi vi parlerò della Basilica di San Michele Maggiore. La Basilica di San Michele Maggiore è una chiesa speciale, basilica del greco Basileus Re. La basilica è quindi la chiesa dei Re. La città di Pavia fu fondata dai Liguri circa 2300 anni fa. Poi, 2100 anni fa, fu colonia romana col nome di Ticillum, dal fiume che la bagna. Nel 568 i Longobardi, popolo guerriero proveniente dall'Ungheria, conquistarono la città e la fecero diventare capitale del loro regno. I Longobardi erano pagani, ma si convertirono a Gesù e furono molto devoti al culto di San Michele Guerriero, che faceva la guerra al male, costruendo spesso santuari in suo nome. La Basilica di San Michele Maggiore fu costruita tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, ed è una delle principali chiese di Pavia. Nel X secolo le venne dato il nome di San Michele Maggiore, e venne indicata come chiesa palatina, cioè legata al Palazzo dei Re. A Pavia fu creata la prima moneta a Longobarda, la quale raffigura proprio la Basilica stessa, nel quale furono incoronati diversi re d'Italia, per esempio Federico Barbarossa. Ciao, ci vediamo al prossimo video!